24esimo turno del campionato di prima categoria, tre gare dal termine, si decide il destino dei play-off del campionato nella gara di Ordona tra lo Stornaella in completo bianco-azzurro a caccia di punti play-off e la Virtus Palese che insegue il Foggia in Cedit direzione di gara affidata al signor Laluce della sezione arbitrale di Barletta, prima occasione per la formazione di casa con la conclusione di Macchiarulo poi libera la retroguardia della formazione barese ci prova anche la formazione ospite con questa occasione per Minkuzzi che calcia ad esterno e il pallone termina sul fondo ancora con lo Stornaella con Dascoli che mette questo pallone in mezzo per l'altro esterno Kfarsu che va in rete ma si alza a mano del direttore di gara che ordina il fuorigioco, gioca ancora lo Stornaella con la possibilità dal limite dell'aria per la girata di Kfarsu, pallone alto sul fondo ci prova ancora lo Stornaella con questo pallone messo in mezzo da Moruso con l'intervento da parte di Liaci, complice il vento poi Orizzonte che non ha problemi interviene sul pallone, poi dalla distanza Pasqua di Biceglie, pallone alto sulla traversa ancora Stornaella con la conclusione di Macchiarulo, pallone sul fondo, finisce il primo tempo senza reti la ripresa si apre con la formazione ospite a caccia del gol del vantaggio con la possibilità per Fama la gran conclusione e la risposta di Orizzonte, poi ancora Stornaella con Macchiarulo, pallone sul fondo arriva poi questa possibilità per Patruno, la gran girata, il gol del vantaggio, grandissima rete da parte dell'attaccante della formazione bianco-azzurra, rivediamo qui la rovesciata di Patruno che porta avanti lo Stornaella gol pesantissimo e bellissimo, dodicesima marcatura stagionale, poi ancora Stornaella con questo colpo di testa e Liaci che interviene sul pallone, ancora con gli ospiti a caccia del gol del pari con Fama il pallone si spegne sul fondo, finisce la partita con la grande vittoria dello Stornaella che guadagna tre punti pesantissimi in chiave playoff per la Virtus Palese sono ormai cinque i punti di distacco dal Foggia in Cedit che vola verso la vittoria del campionato noi a fine partita abbiamo ascoltato il tecnico dello Stornaella Fabrizio Mascia i ragazzi sono stati speciali oggi, dal primo all'ultimo minuto abbiamo strameritato la partita che doveva essere chiusa il primo tempo, perché ci sono stati due episodi chiari, sbagliati dall'arbitro però è un essere umano e sbaglia, però la partita doveva finire già il primo tempo 2-0 però sono super orgogliosi dei ragazzi abbiamo fatto un grande passo avanti, mancano ancora due partite, manca la certezza matematica e dobbiamo affrontarle come due finali comunque abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista fisico, perché il secondo tempo siamo usciti alla distanza e anche dal punto di vista tecnico, ti ripeto abbiamo sbagliato tantissime palle gol questo è un limite che dobbiamo migliorare, non dobbiamo fare l'errore di considerarci perfetti grazie a tutti grazie a tutti